Nel primo episodio Wow Allora Pista Superstar intanto si Sono indeciso Sul da farsi perché Gli ultimi tre livelli sono molto 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 difficili Quindi non so se mi conviene Fare oggi Metà e domani un'altra metà Oppure fare oggi Fino al livello 5 e domani Finire tutto Vabbè vedrò quanto tempo ci metto A fare questi primi livelli Carrosso con Nexon E questo credo che sia Il primo livello e anche L'unico forse ad avere Un nome per metà inglese Ok la prima Unita stella è qui Per la seconda ci sono due modi per prenderla Teoricamente si potrebbe anche usare No aspetta 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 Va bene si potrebbe anche usare Un Fiori di fuoco Ok giù Ma per adesso andremo Così Vai perfetto ce l'abbiamo fatta anche senza I fiori di fuoco E vabbè La terza l'ho mancata Dovrò rientrare in questo livello Ma non importa Comunque Ci abbiamo messo Meno di un minuto A finire questo livello Perfetto E si per qualche motivo Non mi ha salvato le vite extra Che avevo preso Dopo lo scorso episodio Quindi ne ho 80 adesso Ah vabbè non importa Adesso possiamo anche andare un po' più tranquilli Perché abbiamo già preso tutto Dobbiamo solamente Prendere la terza unità stella Va bene È molto 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 rischioso Questo livello Va bene Per prendere la terza unità stella Come abbiamo visto prima Dobbiamo praticamente Rimanere su quello più basso Per tutto il tempo Possibile ho sbagliato Non importa Invece sì Perché Luigi scivola E non mi permette Di rimanere più indietro Sapete cosa? Forse se ce l'ho No che non ce l'ho Peccato Potevo usare i fiori di fuoco Vabbè qui comunque C'è la cosa Todd Quindi teoricamente Potrei andare Ma Però adesso Riproviamo semplicemente Con questo livello Attento danno il fungo Grazie Il blocco interruttore di Mario Non so perché sia qui Perché questo livello Non l'ho mai fatto prima Quindi Boh È un po' Strano Che ci sia Sin dall'inizio Poi non so Non sono espertissimo Di questa Di questo gioco Quindi A parte le monite stella Ma Non so Qualunque Cosa Su questo gioco Quindi non Saprei dare una risposta Certa Stiamo giù Forse no Va bene Terza monite stella presa Adesso possiamo Finire Il livello In teoria Se non muoio Vai Perfetto E ci abbiamo messo Lo stesso Il nitico tempo di prima Però al senso Visto che Le carrozze Hanno sempre la stessa velocità Quindi Ok È comparso Un Ruboniglio Ehm Non lo avevo già preso Fani Adesso Andiamo in questo livello Poi andrò a vedere Sì che l'avevamo già preso Perché mi ha detto che Avevo preso Rubonigli In tutti i mondi Alla fine dello scorso episodio Ehm Boh Ok Corri In questo livello Dobbiamo correre Un sacco Ok Potevamo Saltare benissimo Come lui I gi... Sono morto Sì questo mondo è molto complesso Dicevo che per prendere la prima moneta stella In teoria Potremmo semplicemente saltare come Luigi Se ce la facciamo E se facciamo un salto abbastanza alto Ok corri Sì però dovrei Prendere Il L'interruttore P Ok Perfetto E vabbè Forse mi sarebbe convenuto Aspettare Di sotto O forse no Sapete cosa Se Facessi una follia E non prendessi il fungo Perché in effetti Qua può essere abbastanza Una maledizione Con Questi blocchi bassi Vabbè Per il momento Riprovo così Poi in caso Vado avanti Sen Sap Ok si mi conviene andare avanti senza Ok Adesso Ignoriamo Completamente Il fungo Andiamo avanti Così No Non prendere il fungo è stata una cattiva idea Non perché Forse effettivamente è una cattiva idea Ma perché non sono riuscito a prendere la moneta stella Ci riprovo Un'altra volta dai Ma non Prometto Nulla Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Adesso devo andare Avanti Ok dovete premere Ok dovete premere il pulsante Al momento giusto Sbagliato Vabbè Non mi importa Non dovete saltare Assolutamente Nessun pulsante P O sarà la vostra Rovina Ok 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 Adesso Teoricamente Per l'ultima L'ultima dovremmo evitare Teoricamente Mentre siamo In corsa Dovremmo vederla Tra poco Uh Perfetto E adesso Possiamo tornare indietro E prenderla Così Uff Mamma mia Quanto tempo ho solo per questo livello Eh Ho fatto Non è stato sbagliato Ma non importa Livello completato Ok Un tuffo da moneta a sella Allora Intanto fungo Grazie La prima unità a sella Teoricamente Ok Sì C'è Questo Ma Questa qua non c'è anche Una zona segreta Tipo Vabbè Intanto Sconfiggo voi O forse no Dov'è che Forse Mi ho segnato blocco In mezzo alla piattaforma Solo perché mi serviva per Aspetta cosa succederebbe Se tornarsi indietro Forse niente Ah no Ok ecco perché mi ho segnato Quel blocco Si mi conviene farmi mangiare In effetti potevo anche far mangiare Quei pesci dal Dal pesce grosso Ma non Non ce l'ho fatta Va bene Riproviamoci Non devo perdere tempo Con i pesci Viola Da sotto Ok Intanto Dammi il fungo E La stella Ok Corri 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 Ok se forse Per adesso vorrei anche Sconfiggere lui Perfetto Potevo prendere una vita extra Ma Non gli importa Non ce l'ho fatta Ok Addio Tre paredi fuoco Ed è la Sua Fine Fortunatamente Per noi Attiramente Dovremmo Metterci Qui E successivamente Andare avanti Senza Preoccuparci Di nulla Perché l'ultima Moneta stella È alla fine Non importa Non importa Se ho malgato quella Perché La moneta stella È Qui Ok Vai Corri Per fortuna C'è il pesce grosso Che elimina Questi altri Viola Fastidiosi Ma non è servito Perché Ce l'ho fatta Ok Un momento Qua detto C'è qualcosa Ok Allora Pesce viola Via Va bene E Cima Perfetto Forse Posso farcela fare Fino al livello 5 Oggi Sarebbe una buona idea Anche perché domani Ci sarà anche L'ultimo livello Ma non l'ultimo episodio Non l'ultimo episodio Del Let's play Perché Prima voglio mostrarvi Un'altra cosa Allora Intanto C'è qualcosa qui No Ah va bene Tutto questo livello È in salita Oh no 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 Perché la palla di fuoco Fa Cioè la palla di fuoco La palla di neve Fa danni Teoricamente Non dovrebbe fare danno Non ha molto senso In Mario Maker 2 Non fa Danno Ok Mario Maker 2 È successivo Molto successivo Questo Gioco Ok Dammelo Dammelo Mi conviene Mi conviene Un sacco Tenermi Il power up E con il power up Intendo Un qualunque power up Che mi da Il gioco Tipo Il fungo Grazie Mi sarebbe convenuto Anche tenermi Il fiore di fuoco Ma non ce l'ho fatta Ok le monete stella Comunque Sono Tutte abbastanza Vicine tra di loro Quindi Almeno quella Non dovrebbe essere Un problema Troppo Grande Ok Fammi prendere Queste Monete No No Ok Perfetto Non cadere Uh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh no La sopra No Qui sotto Grazie Grazie mille Ok Uff Prossima Monete a stella Mi ha fatto perdere Non ci posso Credere Quanto odio Questo mondo Perché non sono Difficile Deve mettersi Mettersi in mezzo Ecco Anche La mia Inettitudine Grazie Prendo le monete Tanto per E vai Ok Per un po' Di questi livelli Serve Necessariamente Avere un power up Questo Per questo Non mi pare che Sia Obbligatorio Verne uno Quindi Almeno questo Grazie No Perfetto Dammi Il Power up Grazie Ok Adesso La prossima Unita a stella Come abbiamo visto E Qui Grazie Forse è meglio Che non mi spinga Indietro Vabbè La terza È praticamente Attaccata Addio Va bene Adesso dobbiamo solamente Uscire E Rimanere In vita Va bene Vai Niente Va bene Occhio a non cadere qua Perché Se morite qui È Un grosso problema Ma forse Col 33 Perfetto E dimmi Chi non mi dà una vita extra Ma un fiore di fuoco Perché il fiore di fuoco Sarebbe Una delle cose migliori Che potresti Offrirmi Vita extra Va bene Sì Mi ha appena Risposto Alexa Perché ha detto Vita extra Va bene Lavori in corso Allora Sì Questo è nella Giungla Dei Tizi Che si chiamano Non tizi Ma Boo La foresta di Pinta Ok Quindi Sì È necessario Avere Un power up In questo livello Come potete Ben immaginare Non andate via Ancora blocchi Grazie Adesso Teoricamente Ci sarebbe un punto In cui Ecco Dobbiamo fare salto a parete Per prendere la prossima Unita stella Ho preso danno Ok Grazie Zona segreta Con Luigi segreto Sì Perché ci sono Luigi segreti Anche in questo mondo Anche se Non ve l'ho Detto Mi scuso Ok Sono riuscito A finire Questo livello Abbastanza In fretta Baby Bowser là dietro E non è Bowser Junior Perché non ha Il bavaglio E Sì Credo che per oggi Abbiamo già finito Che poi già È Comunque uno Degli episodi Più lunghi Ma Credetemi Con questi tre livelli Ci sarà un sacco Da sudare E io lo registrerò Adesso Quindi Boy Va bene Quindi Sì Nella prossima parte Di New Super Luigi Finiremo Il mondo stella Il mondo stella La pista superstar E Sì Teoricamente Finiremo Tutto il gioco Ma in realtà No Perché poi ci sarà Anche un altro episodio Quindi Sì Alla prossima Sì